Konnichiwa a tutti e ben ritrovati in un nuovo episodio di Into the 4K oggi parliamo della aspettate l'ultima no la penultima faticaccia di M. Night Shyamalan ovvero old poiché l'ultima avventura di Shyamalan e che deve uscire tra un mesetto due cose tra un mesetto bussano alla porta con Dave Bautista e sono molto curioso di vedere quel film ma ieri sera ci siamo recuperati old avete visto che l'ho comprato dalla Germania a un prezzo sputo praticamente il 1080p all'interno non ha la lingua italiana ma il 4k e lo stesso disco che era uscito da noi in versione steelbook sì mi sembra in versione steelbook però a me non piaceva poi ho detto chissà se mi piace o no il film quindi ho aspettato uno sconticino perché la roba da recuperare è tanta e sono contento così comunque old avevo letto cose molto contrastanti di questo film c'è chi diceva che era una puttana incredibile c'è anche qualcuno a cui era piaciuto e io mi trovo nel mezzo non penso sia il più bel film di Shyamalan assolutamente però ci ha tenuti fino alla fine diciamo che e avete già visto il trailer quindi spoiler no insomma c'è queste persone che vanno in questa spiaggetta e questa spiaggetta li fa invecchiare piano piano cioè i bambini crescono cos'è ogni mezz'ora sono uno barra due anni di vita insomma quando passa un'intera nottata sono quasi 50 anni di vita comunque poiché Shyamalan ci mette sempre del suo però alla fine poi ci mette anche qualche elemento fantascientifico paranormale eccetera qui vuole a sfruttare come dice lui negli extra la cosa dei figli che crescono in un batter d'occhio li vedi già grandi sono passati anni li vedi crescere così ma anche come noi diciamo sempre ammazza sono già 30 anni che ho visto quel film al cinema e a me sembra ieri voleva affrontare questo tema mettendoci poi ovviamente finale quasi a sorpresa insomma un po stile Shyamalan ci mette del suo e voleva affrontare questo tema non c'è dispiaciuto a me non è dispiaciuto ci ha tenuto diciamo non tanto incollati però la curiosità di come continuava a evolversi la storia era abbastanza non annoiato non mi ha annoiato quindi io ve lo consiglio per una visione per un prezzo così come l'ho pagato io dalla Germania o anche in blu ray adesso andiamo nella parte video diciamo che ve lo consiglio ve lo consiglio ma ditemi voi nei commenti se vi è piaciuto o non vi è piaciuto anzi ditemi già se devo spendere i money per prendere l'edizione di bussano alla porta e farci la recensione ditemelo voi perché anche lì pareri ultra contrastanti se l'avete visto il cinema consigliatemi sul da farsi ma passiamo al reparto video hdr 10 dolby vision master 4k film ripreso interamente su pellicola diciamo che la resa video si discosta dal 1080p per una granetta gestita meglio migliore compressione ovviamente dolby vision regala una maggiore come diciamo controllo nelle scene perché il film inizia con la luce chiara del sole poi diventa sempre più pomeriggio diventa più scuro poi diventa notte diciamo che nelle scene che ho controllato nel 1080p questa transazione è gestita meglio come colori sì quel verde acqua del mare è migliore nella versione 4k anche i colori di quando arrivano nell'albergo all'inizio del film il verde degli alberi delle foglie ma anche quel russiccio della parete di roccia che c'è sulla spiaggia è migliore migliore nel 4k il colpo d'occhio in più c'è però di dettaglio a parte la grana gestita meglio una migliore compressione di dettaglio non è che troviamo una rivoluzione anche se un master 4k questo è uno di quegli esempi a mio avviso ragazzi questo è quello che ho notato io coi miei anzianotti occhietti e magari per voi sarà il video più bello del mondo e nitido sì diciamo che rimane sempre una resa abbastanza morbida da pellicola per me per quello che ho visto non è la pellicola che ha reso l'immagine più nitida del mondo il dettaglio c'è il micro dettaglio i granelli di sabbia le onde del mare insomma alla fine il set è sempre quella parte l'albergo l'inizio e poi la spiaggia il 7 sempre quello poi c'è anche un po di cgi per ricreare la parete di roccia insomma qualche inquadratura un po me c'è però la resa è buona ma non è una rivoluzione come dettaglio dal blu ray è un po più compatta l'immagine gestita meglio per la risoluzione anche per la compressione ma come dettaglio anche i close up facciali non ho notato quello step in più da master 4k non l'ho notato per l'hdr e dolby vision non troviamo delle alte luci pazzesche il grading del film non direi piattarello ma anche quello non si discosta tantissimo dalla versione 1080p sì qualcosa c'è il fuoco sulla spiaggia quello è gestito meglio spicca un po di più ma anche l'inizio quando passano in mezzo alla foresta con il camioncino quando ci ritornano quel sole che filtra tra le foglie degli alberi spicca di più assolutamente c'è anche un passaggio non posso spiegare perché sennò spoiler ho troppo però c'è un passaggio da buio a inquadratura del sole che vi colpisce lì proprio cazzo poi l'ho riprovato nel 1080p non era così quel sole però non è un grading ultra pompato e poi c'è sempre quella tendente al giallognolo il bianco è sempre tendente un po al giallognolo come grading come colori non mi ha fatto impazzire assolutamente non mi ha fatto impazzire però il film si lascia vedere è meglio in 4k sì come video ma per quello che vi dicevo io magari il film può non piacervi volete solo recuperarlo così e trovate il blu ray 1080p a un ultra sputo di prezzo in offerta ma proprio perché non siete convinti no non è Shyamalan tra i vostri registi preferiti quindi vabbè voglio old nella collezione ma non lo voglio in 4k quindi buttatevi sul 1080p 4k è meglio ma non è una rivoluzione dal 1080p ma passiamo all'audio audio italiano come ho detto nel 1080p qua non c'è l'italiano nella versione tedesca ma il 4k è lo stesso disco nostro dolby atmos in inglese e dolby digital plus in italiano allora la traccia italiana è veramente veramente buona quando sono sulla spiaggia il layer sotto vabbè layer sotto perché l'ho sentito in atmos poi l'ho rivisto anche in moltissimi pezzi in italiano diciamo che ci sono sempre dietro le onde del mare che passano nei quattro canali dietro due laterali due posteriori c'è sempre qualcosa alle onde del mare molte inquadrature in cui la cinepresa gira le voci girano passano a destra vanno dietro tornano a sinistra tornano davanti di effetti ce ne sono quando la musica diventa misteriosa e incalzante l'effetto c'è la dinamica c'è non è assolutamente una brutta traccia in italiano ma proprio non posso dargli contro fatto sta che la traccia dolby atmos a layer sopra e appena parte il film quando passano in mezzo alla foresta la giungla quel diavolo che il film l'hanno ripreso nella repubblica dominicana è praticamente la demo della dolby con gli uccellini da sopra e le foglie cioè la demo della dolby quando ci sono gli alberi e la foresta ci sono gli effetti da sopra e la demo della dolby per il resto quegli effetti di onde dietro sono un pochino più chiari un po più come posso dire un po più aperti come separazione di canali però più o meno siamo come effetti sonori nella parte sotto come la traccia dolby digital plus 7.1 italiana certo che con gli uccellini da sopra li trovate qua sotto in inglese è più bello per gli effetti da sopra ma è un film tutto ambientato lì nella spiaggia la cosa principale è il centrale e gli effetti delle onde nelle casse su round quindi se volete sentirli in atmos avrete quello step in più soprattutto da sopra invece se volete solo vedervi film tranquillamente in italiano va benissimo lo stesso ma dietro c'è sempre sempre qualcosa ste onde del mare che sempre 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 ma passiamo brevemente agli extra come extra ritroviamo circa nove minuti di scene eliminate ma proprio ci sono delle cose che durano e finito quasi nove minuti così nove minuti che stanno bene lì secondo me e poi troviamo quattro backstage uno sulla chiusura delle riprese che buttano i fiori nell'oceano per dire grazie alla spiaggia insomma un rito per ringraziare il mare e di aver trattato bene la troupe per 27 giorni di riprese poi un altro su come più o meno la durata è di 9 8 minuti ad extra da parte uno che sei insomma quasi 45 minuti tra tutto scene eliminate backstage in cui Shyamalan parla dell'idea del film e di come sua figlia era la regista della seconda unità e adesso mi sembra proprio che sua figlia ha due figlie sua figlia diventerà regista con un film tutto suo mi sembra mi sembra di sì è strano che non sia andata a lavorare in un supermercato e si è diventata regista così però vabbè ho i casi della vita ma un altro backstage proprio sulle riprese del film vi fanno vedere il set la parete di roccia che era finta non c'è se andrete in quella spiaggia non ci sarà la parete di roccia e basta insomma niente che vada nel dettaglio sulla costruzione del set o altro no c'è un altro extra su come ci sono molti cani randaggi in quella zona e ogni tanto entravano nelle riprese poi c'era la spiaggia che era protetta poiché le tartarughe andavano a deporre le uova quindi in certe zone non potevano riprendere dovevano stare attenti a quando arrivavano le tartarughe boh extra che si lasciano vedere niente di più però il pacchettino è molto buono ripeto che il film non mi è dispiaciuto ve lo consiglio per una visione io ve lo consiglio non credo che possa annoiare perché la formula a me non è spiaciuto non mi ha annoiato in inglese ho notato che qualche frase recitata posso dire recitata un po da cani proprio se in italiano aumenta un pochino il livello di recitazione il doppiaggio italiano in quelle scene che ho rivisto in inglese proprio sembrava che stessero proprio leggendo oh mio dio ma se stiamo invecchiando di 20 anni oh mio dio c'è la recitazione vabbè queste sono cose che ho trovato io comunque il film lo ripeto ancora una volta non mi è dispiaciuto ve lo consiglio ma noi chiudiamo questo episodio di into the 4k e attendiamo il prossimo film di M. Night Shyamalan ovvero bussano alla porta in 4k e ripeto consigliatemi voi nei commenti se devo comprarlo o no per farci il video anche perché per adesso esci solo in stile costa di più e comprare un film che poi non mi piace mi girano un po le peyotas ma ci rivediamo in un prossimo episodio di into the 4k sayonara a tutti e bye bye grazie a tutti grazie a tutti